Dopo quell'interrogatorio, che cosa è successo poi? È successo che finalmente uscii da quel mondo orribile e ricominciai a ritrovare la vera me stessa. Vedere oggi quella Marianna sembrano due mondi diversi. Che impressione ti fa? Mi dà varie sensazioni. Mi faccio tenerezza, mi ricordo quello che è stato, quello che è passato e il modo in cui rispondevo, quasi anche a prendere in giro, essere un po' strafottente, a cercare di condurre io. Sembravi assolutamente, non avevi nessun tipo di inibizione davanti al magistrato che si sta interrogando. È come se quella storia in fondo quasi non ti appartenesse, oppure fosse qualcosa che ti ha scivolato proprio sul corpo, come se fosse un'altra Marianna che l'avesse vissuta quella storia. Era un'altra persona che raccontava. Esatto. È strano. È strano. Era una corazza che ti facevi per vivere quella storia. Sì, era uno scudo che avevo creato e che mi permetteva di andare avanti in qualche modo. Ecco, però quando io prima ti ho introdotto, ho detto che è una donna, perché hai una maturità molto forte, spiccata, che ha coraggio. Perché in quei casi uno tenta di dimenticare il suo passato, il suo vissuto. Oppure dice, finisco dentro ancora peggio, non ne esco da quella storia. Tu invece hai fatto quello che difficilmente una donna può fare. Mettere la faccia, venire anche qui e parlare. E allora ti chiedo, perché? Perché? Perché parlare? Perché si deve parlare. Perché ci sono tante persone che, in questo momento, ragazze e anche genitori. Il vuoto che ti ha portato a quella storia? Esatto, ragazze e genitori, da quando successe tutto io non ho notato una grande differenza su tanti aspetti. E mi piacerebbe cercare di poter donare la mia esperienza in qualche modo. E che ci metto la faccia non mi interessa, perché tantissime cose sono state dette che non ho autorizzato, non sono uscite dalla mia bocca. Non fa niente. Se devo metterci la faccia per comunicare qualcosa di importante, lo faccio. Anche perché questa storia è stata raccontata molto male per certi versi. Noi abbiamo... Noi abbiamo...